benvenuti naufraghi a Caio Maior state per affrontare una prova ricompensa se la vincerete a Caio Paloma troverete del pollo con delle patate l'obiettivo della prova è portare un totem sino al traguardo camminando in equilibrio sui pali i primi tre li troverete fissi in acqua gli altri dovrete spostarli uno a uno permettendo così al naufrago di arrivare sino al traguardo se cadrete in acqua dovrete tornare indietro e prendere un nuovo totem ne avrete tre a disposizione ad ogni tentativo fallito potete decidere chi sarà l'equilibrista 3 2 1 libero più forte più forte più forte tenere Giro, 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 bravo, buoni, 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 dobbiamo portare avanti, attenzione, mi sto prendendo di gambe, aspetta, vai là, vai, vai, bravissima, fermo, fermo, piano, piano, primo tentativo è fallito.